La fonte miracolosa di San Geminiano. In realtà diversi miracoli sono avvenuti anche nel Novecento, non solo nel passato. Sì, esistono anche dei giornali che ne riportano le coppie, ma non ne devo dire che ho messo, che ho potuto fotografarli, metterci sia locali che anche nazionali. Una decina di anni fa, quando un giovane è stato rimesso dal Com, i medici hanno detto ai genitori che non possiamo fare più niente, però se volete tentare potete rivolgervi a un ospedale socializzato. E allora è successo che lì hanno visitato, non c'è più niente da fare, però se proprio volete noi tentiamo, a Modena fate 5 cicli di chemioterapia, poi dopo lo portate qui per l'operazione, vediamo com'è la situazione. Il giovane è stato portato a Milano a un certo punto, finito in chemioterapia di Modena, e allora a Milano il papà, che aveva un impegno grosso in città, il giorno dell'operazione non è potuto essere accanto a sua moglie, al sistema di ragazzo. E allora è successo così, è successo che è tornato, è dovuto tornare in città, il giorno stesso insomma dell'operazione, appena è terminato l'impegno che aveva in città, era proprio lì, è corso in Duomo, si è messo avanti alla statua di San Gimiliano che c'è nell'ingresso, Gimiliano aiutaci, è questo il momento più drammatico. E allora è successo questo, che ha sentito una voce fortissima, è guarito. Un sito fuori, ha preso il telefonino, ha chiamato sua moglie, e com'è? Com'è andata l'operazione? Benissimo, l'hanno aperto, non ha trovato neanche una metastasi. Benissimo, l'hanno aperto, non ha trovato neanche una metastasi.